Salve amici del Centrometro Italiano. Instabilità che si muove verso le regioni del sud all'inizio del weekend. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 24 giugno. Piogge sparse al mattino su Marche, Abruzzo e Molise e nubi sparse ed ampie schiarite altrove. Al pomeriggio possibilità di acquazzoni solo sulle zone interne del centro sud ed ampi spazi di sereno al nord. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con nubi sparse ed ampie schiarite. Temperature in generale diminuzioni sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie a tutti.